Mi chiamo Marino Livolsi, sono stato, perché adesso sono un vecchio pensionato, sono stato un docente universitario, ho fatto il sociologo, mi sono occupato di tante cose, sono stato anche presidente della società umanitaria, responsabile dei progetti speciali a Biennale e altre cose di questo genere. Fondamentalmente ho fatto il sociologo, ho scritto delle cose, alcune belle, alcune così così, questo aspetta gli altri. Venendo a quello che mi chiedi, io penso, ho sempre avuto un grande amore per il cinema, io credo che mi è venuto in mente che probabilmente questa cosa che mi chiedi potrebbe iniziare proprio come inizierebbe probabilmente un film, nel senso che devi riportarti, dobbiamo riportarci agli anni 60, primi anni 60, grazie a Dio con Pino Vivo e allora le prime inquadrature riguarderebbero la periferia milanese, dalle parti di San Siro, le case popolari, via Premeste, giù di lì, ci metterà anche un po' di nebbia che allora c'era e della gente molto tranquilla per le strade, della gente come direi vera, nel senso che eravamo in un posto di Milano dove non c'erano molti negozi, la Milano davvero era da venire, ma non c'era neanche la Milano del centro, quella affascinante, era una Milano di gente che lavorava, di gente che aveva il suo trantlan, di gente che probabilmente aveva una forte coscienza politica non partitica, nel senso che aveva un'idea del proprio ruolo, delle cose in cui credere, probabilmente in quella zona non c'era molta religione, però c'era una specie di religione laica, di serietà, di aiutare gli altri, di parlarsi molto, la seconda inquadratura potrebbe essere della gente sul pianerottolo, con inquilini che parlano, ma parlano non di banalità come adesso, parlano magari di arrivare a fine mese, del marito che lavora, dei figli che è bello che studiano, perché allora far studiare figli era ancora una cosa molto importante, molto bella per chi ci tradeva. I genitori si mettevano proprio nei panni dei loro figli e sognavano per loro, ma con loro sognavano, come dire, un futuro bello, un futuro migliore del loro, dove il futuro migliore del loro poi era piuttosto modesto, era magari una piccola macchina, era una casa, era comunque un lavoro dignitoso, sicuro. Dopo questa inquadratura di Milano, dei pianerottoli, potremmo entrare in diretta nella casa, era una casa modesta, molto modesta, ma assolutamente pulita, civile, vissuta, nel senso che non era certo una casa sciatta, era una casa in cui giravano molti libri, in cui le inquadrature le guarderebbero in particolare, le due inquadrature, e lì c'ha al lavoro davanti alla macchina da scrivere, dove ci stava per ore durante le giornate, e le bambine che facevano i loro compiti. Pino era molto via durante la giornata, perché ovviamente facendo il ferroviere avrebbe dei turni che lo portavano via parecchio, però quando arrivava Pino a casa era come se la casa un po' si rianimasse, nel senso che lì c'era la presenza costante, io la prendevo in giro dicendo che era un vero uomo di casa, però era la presenza costante e continua, mentre Pino portava una ventata di un po' di fantasia, eccetera, eccetera, e noi siamo arrivati lì tutti noi, tutti gli amici, quelli che sentirete, quelli che giravano intorno, negli primi anni 60, non per motivi politici, ma per un fatto molto semplice, eravamo prima studenti e poi assistenti universitari, più o meno tutti, e scrivevamo delle cose, allora non c'erano nel computer e dovevamo rivolgersi a qualcuno che le battesse per noi, lì c'è stato il tramite in cui tutti abbiamo fatto riferimento, per chi era brava, non mi ricordo se costasse molto poco, ma credo poco, conoscendo lì c'è, ma soprattutto dava questo calore umano, nel senso che la cosa che a me, ma credo a tutti, è che lì c'è leggeva le cose che scriveva, non è che le battesse macchina, lì c'è leggeva e a volte interveniva tranquilla e dura come suo carattere, dicendo cosa ne pensava, per cui l'atmosfera non era quella di qualcuno che va in una copisteria per fare un lavoro, ma era quella di qualcuno che lentamente impara a conoscere lì, c'è Pino, eccetera, eccetera. Pino poi faceva da mangiare, perché se lì c'era il vero uomo di casa, Pino doveva evidentemente fare le cose, e credo che si considerasse anche un buon cuoco, su questo giudizio lo lasciavamo in sospeso, però era, come dire, per esempio sui risotti ci sapeva fare. Allora noi andavamo lì, parlavamo con Licia, parlavamo con Pino, parlavamo, giocavamo con le bambine, ma mentre con Licia parlavamo, con Pino discutevamo, perché? Perché Pino era politicizzato, come si direbbe adesso, noi molto meno, per cui eravamo meno politicizzati e più, come dire, superbi nella nostra imbodestia di studentelli da quattro soldi, per cui noi sapevamo le cose, però lui le viveva, che era una differenza importante. Però si discuteva, si discuteva animatamente per tanto tempo, infatti non si andava in visita, si andava a risotto il vino e chiacchiere, vino poco per me almeno, e chiacchiere. Pino veniva fuori con la sua forte personalità, perché ovviamente era una quieta, forte personalità, nel senso che non se la tirava, come si direbbe adesso, però non era una persona qualunque, non era il ferroviere che incontra dopo lavoro o per strada, insomma, era una persona molto convinto nelle sue idee e dava a noi, a studentelli o professorini, quello dello squarcio di vita che a noi mancavamo, perché per esempio avevamo discusso molto, per esempio, su alcune azioni degli anarchici, la Garrota, le prime cose a cui venivano accusati e noi andavamo armati nei nostri pregiudizi, dicendo, eh, cosa fate, eccetera, eccetera, e lui ci rispondeva dicendo, in parte che non erano cose vere, tanto per cambiare, e soprattutto perché loro, lui, loro, più loro che lui, facevano quelle cose. Ed era per noi una cosa, come dire, era la vita vissuta, non la vita letta. E questo era l'argomento della nostra conversazione, quindi tante, tante chiacchiere, piuttosto spesso, perché noi portavamo lì già tante cose, e inconsciamente o quasi, cercavamo anche, forse non quasi, cercavamo anche di trovarci non a uno a uno, ma magari in due o tre, quindi in molte occasioni la discussione era un po' allargata, nel senso che noi eravamo in due o tre, con Bruno, Roberto, tanti altri, eccetera, 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 e questa è stata una cosa che dico perché è molto importante, perché la prima molla che ha mosso tutti noi immediatamente, senza dubbi, era che Pino non poteva aver fatto quelle cose, il Pino che amo conosciuto noi era un assurdo, uno così non poteva assolutamente aver fatto una cosa simile, era come accusare il tuo fratello che conosce da una vita che improvvisamente dicono che ha assassinato uno. Per cui per noi il primo scarto duro è stato proprio questo, è una grande palla, è una grande bufala, perché Pino non avrebbe mai fatto né permesso probabilmente di fare, ma soprattutto fatto. Allora il primo scatto in noi preciso era Pino no, e da lì poi sempre è stato tutto quello che abbiamo fatto, ma voglio dirvi che il nostro primo impulso è stato proprio, come dire, molto tranquillo, molto, direi quasi il soggettivo direi era, io sono convinto, io conosco Pino, sono convinto, qualunque palla mi dici tu guida o calabrese del tempo non ci credo perché è come se mi raccontasse appunto che mio fratello è un assassino. E lì è iniziato per noi, se vuoi, dal prima, che era, come dire, una nostra conoscenza, io non ero ricco, erano piccolissimi borghesi che con tanti sacrifici mi hanno fatto studiare, quindi non è che io ero non un proletario, ma non certo un ricco borghese milanese. E per noi, e per molti altri come me, è stato proprio, come dire, intanto conoscere un'altra fetta di vita, no? I nostri amici, le nostre amorose, le nostre cose, e appartenevano a un mondo non così diverso, ma diverso, insomma. Noi abitavamo in centro, giù di lì, lì era la periferia, noi andavamo molto al cinema, a teatro, i pinelli meno, però era un mondo particolare, era quello, come dire, un mondo vero, un mondo che a noi affascinava. E questa è stata la prima cosa importante, per noi è stato conoscere un mondo che a noi piaceva, un mondo in cui, come dire, gli psicoanalisti direbbero l'altra metà di noi stessi, no? Quello che non siamo, ma che ci piacerebbe in qualche modo adesso. Va bene, ho scattato questa cosa, che non se ne parla nemmeno, che sia stato Pino, e ha cominciato il grande problema, drammatico, perché tu pensa un fatto, noi siamo, ad esempio, quattro assistenti, professorini, da quattro soldi, alle prime armi, con pochi soldi, non molte conoscenze, non è che noi eravamo, allora avevamo trent'anni, meno forse, dai 28 ai 32, secondo, quindi non è che avevamo posizioni acquisite di grande, di grande momento. E non avevamo, come dire, le conoscenze, e quindi cosa fare? Il che fare era drammatico, perché noi siamo convinti, ma cosa facciamo per dimostrarlo? Perché noi siamo sicuri, ma come facciamo? Anche perché aiuti, ovviamente, non ne arrivavano ufficiali, dico aiuti ufficiali. Però si è messo in moto, in parallelo a questa cosa che ti dicevo, si è messo in moto una cosa che a molti di noi ha fatto pensare, chi arrivava a casa Pinelli, tu sai che sono arrivati tre giornalisti molto importanti la sera, tra cui due a chi aveva molto, la Camilla Cedea, una e-book, e passano, scusate, e chi arrivava dalla sede dell'incidente, diciamo così, e poi era tutta gente per bene. E questa è stata un'altra grande conferma, nel senso che era, non ideologicamente, ma umanamente, la nostra gente, era la gente con cui volevamo parlare, con cui volevamo avere rapporti. E questo ci ha dato, come dire, un po' di forza. E allora abbiamo cominciato a dire cosa si può fare? Allora, prima cosa è dire che così non è stato e raccogliere, però non solo dirlo, anche perché a noi non ci cagava nessuno, perché se dicevamo noi non è vero, capisci, di là c'era la polizia, c'era qualche giornalista a gamba, ma c'erano anche molti figli di buona donna che tuonavano sull'assassinio, sulla strage, sugli anarchici, su queste cose qui, ovviamente. E allora, che fare? Allora, prima cosa è cercare di capire cosa era successo quella notte. Allora abbiamo cominciato a... lì non è stata chiamata, però è stata chiamata la mamma di Pino, ma a che ora, come, cosa gli avevano detto, con chi aveva parlato, poi cercare di capire chi c'era in quella stanza maledetta e cominciare a vedere se era possibile far parlare a qualcuno di loro. Ma noi non avevamo entrature, quindi non potevamo presentarci, scusi signor... allora si chiamano sergenti, signor sergenti ci dica com'è andata, ovviamente il risultato era evidente anche per noi, insomma. Allora però cominciavano a scavare, scavare proprio come dire, come certosini, a trovare piccole cose, piccole conferme, piccole... o piccoli dubbi che vedivano. E sono cominciato a venire fuori alcune piccole cose che ovviamente confermavano i nostri dubbi. E allora abbiamo cominciato a pensare a che farne di questa roba qui. E insieme a qualche amico, in particolare uno che ha attirato molto in questa cosa, è un po' solo universitario, vivente come me, anzianotto ma vivente, che si chiama Gigi Ruggio, che adesso è a Venezia, e in quale ha attirato lui, ma con molti di noi, abbiamo scritto, hanno scritto, abbiamo scritto questo libretto rosso, ma che si chiamava La strage di Stato. E questo libretto ha avuto un enorme grande successo per il tempo. Perché? Perché era la voce che molti si aspettavano. Perché noi abbiamo scoperto che i dubbi non eravamo solo noi, avevano molta gente. E questo è stato tanto delle cose che ci ha dato forza. Non eravamo solo noi amici, ma anche della gente normale, come dire, la pensavo così. Io mi ricordo che, per esempio, un'esperienza molto bella, sono stati i funerali di Pino, con tanta gente, ma non solo gli amici, gli anarchici, ma anche gente normale, gente che non saprei dire, quella che si chiama la gente comune, ma che c'era, che partecipava, che diceva che non ci credeva, eccetera, eccetera. E questo libro ha avuto un certo successo in questa parte dell'Italia, che come noi ha cominciato ad avere, tieni presente, siamo negli anni Sessanta. La democrazia cristiana, non si parla ancora di centrosinistra, sì, vabbè, ma insomma, centrosinistra molto anacquato, come dire, un riformismo che io ho scritto da un'altra parte mancato, nel senso che si parlava molto di riforme, ma non so ne faceva neanche una. E in questo clima di moralità, anche se vuoi molto dura, questa cosa veniva fuori come una specie di sasso nello stagno, no? Ma come? Allora non è tutto come ci dicono, allora non è vero, per esempio, la polizia allora era ancora, come dire, nella stampa, era sempre nella parte della regione, no? Contro anarchici, comunisti, scioperanti, operai, sì, c'era stato Reggio Emilia, d'accordo, ci sono stati dei problemi, ma grossomodo, ancor più i carabinieri allora erano ancora più credibili. E si è cominciato ad avere qualche dubbio, ma allora forse non loro, non i singoli ovviamente poliziotti, ma l'apparato, chi li comanda, chi li dirige, chi li usa, qualche cosa di dubbio cefonos. E allora cominciare, per noi, quella che io ti chiamavo prima una presa di coscienza, è stato cominciare ad avere dei dubbi, cominciare ad avere dei dubbi su come funzionavano le cose. Poi qualcuno di noi si è, come dire, scontrato con il 68 e quindi ovviamente c'è stata un'altra presa di coscienza, nel senso che allora c'era anche un altro modo di vedere le cose, un altro linguaggio direi, e mette insieme tutto questo e ha cominciato a mettersi in moto questa macchina che poi lentamente, secondo me, altri giornalisti coraggiosi, pensa alla Cederna con questo suo libro, su Pino, molto bello, la Cederna dovrebbe essere, non si può ovviamente intervistare, ma si dovrebbe molto pensare su cosa ha fatto questa donna che ho conosciuto tramite Licia e tramite questa, lei era una borghese, una vera borghese milanese, una signorina col filo di Perle, i gorghi di Kashmir, con cui si prendeva il tè eccetera eccetera, che però ha avuto questo coraggio incredibile di parlare di Pino, poi avrebbe avuto anche il coraggio di parlare di Leone, Presidente della Repubblica, o comunque di altra gente, anche Bocca, anche altri giornalisti che hanno parlato e detto cose belle. Allora lentamente, questa che era una cosa all'inizio di quattro amici al bar, non al bar, ma in questo caso la casa di Licia, è diventata quella che adesso i sociali chiamerebbero un movimento, un movimento informale, che però si trovava in certe occasioni, che diceva certe cose, che assisteva a Licia molto coraggiosa nei processi, che assisteva a Licia nei tentativi disperati di trovare tramite i processi delle verifiche, delle prove, delle qualche cosa che avreggesse, che non ci si è mai riusciti, con le illusioni che c'erano, perché sembrava che qualche giudice fosse meglio degli altri, che qualche indagine funzionasse meglio, e grandi delusioni, delle delusioni molto forti, e, però, la cosa è andata avanti, io credo che dopo sia stata, nel giro di pochi anni, non si è più potuto dire che Pino aveva fatto certe cose, nel giro di pochi anni, in Italia, non si è più potuto dire che Pino si era suicidato, ma si è cominciato a dire che Pino è stato suicidato, e questo tu pensa, poca gente all'inizio, poco, poco, non importante, poco proprio è, ma come dire, con una coscienza del vero che ha funzionato molto e che ha trovato immediatamente molta sintonia e molta gente, ma anche nella gente normale, perché io credo, da sociologo, se mi permetti, non ci sono solo gli intellettuali, i leader politici, eccetera, ma c'è un sentimento collettivo da cui devi fare i conti, la gente a certe cose non ci credo, specialmente a loro, oggi molto meno, ma allora c'erano, la gente sapeva da che parte stare, magari anche a destra, a destra un po', magari anche al centro, magari i democristiani, però sapeva che certe cose erano vere e certe altre no, tant'è vero che poi la crisi della politica si è messa proprio in moto quando la gente come certo non crederci più, quando la gente ha cominciato ad avere dei dubbi su tutto e allora, e allora, eccetera, 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 ma questo vuol dire poi 68, 92, eccetera, eccetera. Per il momento direi che, per dirti il prima, è questa roba qui. Allora, tieni presente che io quando sei con noi parlo dei quattro gatti iniziali, gli amici, gli amici di Casa Pinelli. Noi, ti ho detto, parlavamo con Pino, ma non eravamo naci. Sì, sì, no, ha fatto per questo. Nessuno di noi, e nessuno di noi neanche si è mai mascherato da anarchici. Anzi, qualcuno di noi era anche un po' duro. C'era chi aveva, per esempio, una forte coscienza politica, diciamo, democratica di sinistra, che evidentemente riteneva gli anarchici assolutamente lontani, eccetera, eccetera. Per noi comunistelli gli anarchici erano compagni che sbagliano, ovviamente, e quindi rapporti mai. Quando tu mi dici, come dato, si incisto un altro discorso, purtroppo, una cosa che è successa molto non bella, è che Valpreda non ha avuto, l'immediata immagine positiva di Pino, non perché era un ballerino, queste sono palle, ma era un po', a Milano era un po' fanfarone, nel modo di parlare, di dire, di esprimersi, ma senza disprezzo, per dire che proprio come personaggio di commedia, uno era il ferroviere serio, eccetera, eccetera, con la famiglia, con la moglie, con le figlie, e l'altro era, lascia perdere, il ballerino è stato montato sotto, ma era comunque uno così, insomma, che non si capiva bene. E quindi era, come dire, lo stereotipo dell'anarchico, casinista, se vuoi, per dirla molto frettolosamente. Per cui queste due anime sono state vicine, ma non hanno mai combaciato del tutto, perché da una parte c'era, come dire, la crociata su Pino, e dall'altra parte c'era il dovere di difendere un innocente, ma come dovere. Dalla prima parte c'era, come dire, l'immediata sensazione, dall'altra parte c'era il dovere civile, sociale, di dire, no, è una palla, non avete prove, la smettiamo. Qualunque cosa succede in Italia, sono gli anarchici, che anche un po', oltre che sbagliato, è anche un po' banale, nel senso che fate qualche indagine in più, che forse è meglio, insomma, no? E queste due anime non sono mai del tutto coincide. La stessa Alicia si è battuta per Valpreta, ma non coincidevano le due anime, erano parallele, per usare un signore che allora era di moda, ma non erano la stessa cosa. E quindi, ovviamente, nessuno di noi credeva in questa cosa, era, come dire, una controprova di quello che era già successo. Era successo a Pino e sarebbe successo a Valpreta e la paura che qualcuno di noi aveva, che poteva succedere anche ad altri, per questo la resistenza, di dire, adesso basta, adesso non ci raccontate più palle e adesso ci dovete dare o prove o l'aspettete di dire questa roba lì. Quindi, anche dopo, nessuno di noi è diventato anarchico. Sì, sì, no, infatti, il ponte della Ghisolfa è rimasto, come dire, un mito come i libri di testori, queste cose della vecchia Milano. Se vuoi un altro è un quadratore, cavalcavia, nebbia, autobus, 90-91, è un altro film, come dire. Sì, sì, ma appunto, più che quello, appunto, sì, direi che già risposto, era nel pratico se si era riuscito, cioè se si era comunque arrivati a riuscire a fare delle cose assieme. I due mondi si sono incontrati, ma non fusi. C'è stata comunque una distanza, insomma. perché ovviamente le manifestazioni, le cose, è evidente che dovevi essere lì perché eri da quella parte. Ma i due, come dire, i due movimenti, i due gruppi non sono... sì, in certe occasioni, come ti ho detto, ma non erano fin dall'inizio. Tant'è vero che, se ci pensi, poca roba si dice Pinelli e Valpreda. Poche volte sono messi in sé Pinelli e Valpreda, sono la stessa grande storia, ma non Pinelli e Valpreda, sono due personaggi vicini. Diciamo, non come Sacco e Vanzetti. No, proprio non così. Sono Sacco, virgola, Vanzetti, non Sacco e... non lontani, eh, per carità, anche perché poi se Pino fosse stato vivo, figurati cosa avrebbe fatto, non so. Però, come ti ho detto, due mondi paralleli, vicini, ma soprattutto come... vicini soprattutto in lontananza con degli altri, più che vicini tra se stessi. Grazie.